Sopravvivenza, domanda. A volte si ha l'impressione che alcuni rifiutino la possibilità della sopravvivenza per partito preso. È vero? Risposta. Certamente. Preferiscono qualsiasi altra ipotesi, anche se inverosimile. Rifiutano ad ogni costo la possibilità che esista una vita dopo la morte, anche se hanno avuto prove personali. Ma anche questo comportamento è giusto. Domanda. Perché? Risposta. Perché la sopravvivenza si sente e non si crede. E chi crede è la mente, mentre chi sente è la coscienza. E chi crede è la coscienza. E chi crede è la coscienza. Grazie.